un grigio un pochino diverso, nel senso che era un po' più alto degli altri, aveva un colore un po' più chiaro, venire verso di me con una specie di penna in mano che ha puntato sulla fronte, a quel punto io non ho visto più niente, però sono stata portata via da dei militari, dei militari che in quel caso avevano agito aiutati dagli alieni e sono stata portata in una loro base, era in Liguria perché io ero in Liguria in quel periodo, erano via per qualche giorno e in quel caso il feto se lo sono poi preso loro, io non ho idea del perché o che cosa potessero farci, comunque sembrava effettivamente che loro potessero prendersi questo feto e che gli alieni non gli avrebbero detto nulla, come se ci fosse un accordo, in quel momento tu senti semplicemente che ti stanno portando via una parte di te, ecco, infatti io continuavo a ripetergli che non era loro, che non potevano portarselo via, quindi questo comunque penso che sia una cosa che rimane, per quanto tu poi alla fine capisci che non è una cosa tua, però appunto non è razionale la cosa, quindi. Ma tu, sono successe molte volte queste cose? Beh sì, nella vita di un'adotta succedono parecchie volte. E li sentono come sono, come si aspeda su un figlio? Sì, sì, sì. All'ospedale che le dicono? Cosa dicono? Non dicono nulla, io poi ero tornata, quando sono tornata dalla Liguria ho fatto subito, ho avuto la fortuna di fare subito delle analisi del sangue perché le avevo già programmate e dagli risultati c'era un livello di prolattina alto, la prolattina è l'ormone che poi fa produrre il latte per l'allattamento, quindi è normale che dopo questi parti indotti si abbiano dei livelli così elevati, però loro non ti danno spiegazione, ti dicono che probabilmente è uno squilibrio che tu hai, è semplicemente niente di più. Io so che molti all'ospedale sono a conoscenza, molti ginecologi specialmente. Immagino, mi è capitato di fare recentemente un'ecografia di controllo, l'ecografista mi ha chiesto ma hai avuto figli? Dico no, io non ho figli e non sono sposata. Dico perché? Ah perché ha un utero cicatrizzato, cioè con segni come se avesse partorito insomma, ho detto no. Avevo già iniziato a fare l'ipnosi, quindi già iniziavo a capire quello che succedeva. Mi ricordo che ero stato portato in una base, io stavo vivendo come se fossi in un sogno, sentivo la gamba che era, che aveva freddo, su qualcosa di freddo. Però io avevo la sensazione di avere una coperta sopra, per cui cercavo di coprirmi, però questo freddo non passava. E stavo sognando, in questo sogno, che io vivevo come reale, vivevo di avere un rapporto amoroso con una donna. Quindi c'era questa eccitazione, per cui il freddo mi disturbava, l'altra cosa che mi interessava di più. In realtà poi per cercare di sistemare questa coperta, perché mi dà fastidio questo freddo, ho anche mosso il braccio in malo modo e questo braccio è andato a toccare anche qualche cavo, qualche cosa. In realtà ho capito, e da lì si è rotto tutto, perché avevo una specie di casco sulla testa collegato ai fili, per cui attraverso questo oggetto mi stavano inducendo nella mente delle scene per provocare un mio stato di desiderio, perché in questo esperimento io ero attaccato a una macchina che serviva per levare del seme, però dovevano farlo quando io provavo desiderio. Non poteva essere fatto evidentemente in un momento qualsiasi, perché dovevano sperimentare qualcosa che a loro serviva. E ho capito che era un luogo in cui loro facevano esperimenti di riproduzione. Io con me mi sono svegliato da quello che stavo vivendo, che ho capito la realtà, sono saltato giù da questo lettino, ho strappato tutto, i due piccoletti grigi che erano a fianco sono scappati, c'era anche un medico in camicia bianco che era lì vicino, che se n'è andato, che non era umano. Questi due piccoletti, siccome sono piccolini e si muovono lentamente, io li ho inseguiti perché ero arrabbiato, ne ho preso uno e l'ho attaccato al muro. E' lì che mi sono reso conto che sono veramente dei pupazzi. E poi dopo sono svenuto e mi hanno portato via. Evidentemente ha fatto qualcosa, mi hanno portato via. E mi ricordo che prima di finire in questo posto qua, di fare questo esperimento, eravamo su un pullman, eravamo in tanti, siamo finiti in una base militare e ho parlato con un ragazzo che anche lui mi diceva cosa sta succedendo, dove ci stanno portando. E mi ricordo che ho parlato con una ragazza che mi aveva detto il nome e di dove era, che poi tempo dopo tramite adotti ho conosciuto. Io l'ho riconosciuta e lei mi ha riconosciuto, per cui conferma che le cose che abbiamo vissuto non erano fantasie notturne, ma cose vere. Ma l'ultima volta che mi ricordo di essere stato preso da quelli normali, il ricordo che ho io, è che però sono entrati dalla porta. Cioè, entrati dalla porta, svegliata la moglie, da quello che ho visto io una puntura, perché poi anche lei dopo il giorno dopo aveva dei segni in una gamba, che questo lo fanno i militari, faccio una parentesi, avendo amici che hanno fatto carriera militare, me l'hanno detto anche loro, proprio lo fanno anche i militari. Cioè, è una prassi di protocollo, un vaccino, una puntura di calmante o qualcosa è, stinchi o polpacci al volo. Cioè, della serie dove capita, più che altro. E niente, ricordo che avevo questo, che mi mettevano un coperchio in testa pesantissimo, mi portavano via a piedi, mi facevano uscire dalla porta e mi montavano su, non lo vedevo io perché era tutto coperto, su, facevo due scalini per montare lì sopra. Però poi non riuscivo a mettere a fuoco se camminavano sulla strada o se volava, perché non sentivo un rumore. Cioè, sentivo qualche sbalzello, che secondo me era qualcosa che camminava, una camionetta, qualcosa, non so è, e mi portavano a questo posto che non deve essere tanto lontano perché se di qui mi hanno portato da qualche parte, il posto è vicino. Mi portavano a questo posto e mi scaricavano, mi portavano a una stanza nera, dove mi facciano queste domande. Queste domande mi facciano vedere, te sei, no, te ci devi da una mano perché noi abbiamo bisogno di te, vanno fermati, vanno di qui, vanno di là, però c'è anche lì tutto confuso perché sicuramente poi ero sedato, perché anche ricordo che ho, cioè l'immagine visiva che ho è molto alterata di loro, quando mi si avvicinano, si sformava l'immagine e a livello uditivo era strana, quindi sicuramente qualcosa mi aveva andato per intronarmi. Più che altro è questo, l'unico ricordo che ho dei militari, l'unico vero ricordo che ho è questo. Poi sotto ipnosi, quando tirati fuori assai, nel senso che ti prendono, mi portano via, ti fanno soliti esperimenti di qui di là, oppure ti mettono in una stanza e ti mettono questi occhialoni con una realtà virtuale e ti fanno fare la guerra. Tu ti metti lì e ti devi fare la guerra. Ti fai questa guerra, queste guerre simulate, servono, 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 non si sa bene a che servono. Io ho sempre avuto questo ricordo, dunque noi qui siamo vicini alle montagne, quindi andavamo a fare spesso picnic montagna, la montagna qui vicino, e ho sempre avuto questo ricordo di io e mia madre che percorriamo un sentiero da sole, io avrò avuto credo 4-5 anni, credo, e ad un certo punto incontriamo questo gruppo di militari.